A Isernia il cartellone degli eventi estivi annovera un appuntamento sportivo molto seguito e partecipato dai giovani. Si tratta del torneo di beach volley ieri sera nella suggestiva cornice del centro storico, la prima giornata di partite sulla sabbia. Vediamo. Beach and Sun. A Isernia ha preso il via ieri il torneo di beach volley. Una manifestazione sportiva diventata ormai uno degli appuntamenti caratterizzanti l'estate isernina. L'iniziativa resa possibile dall'impegno e dalla sinergia tra Società Pallavolo Isernia, Comune, Coni e Fipav. Fino al 30 di luglio nella suggestiva cornice del centro storico, nei pressi della cattedrale, le partite sul campo in sabbia. Il torneo ha preso il via alle 19 con gare amatoriali. A seguire il livello tecnico dei match è salito con le squadre dei tesserati. Lo spettacolo sportivo è andato avanti fino a tarda serata. Da sottolineare la presenza e la partecipazione di tanti ragazzi del luogo, a testimonianza del fascino esercitato dalla pallavolo in città. Insomma, questo il canovaccio che caratterizzerà le due settimane di Beach and Sun. Con una ciliegina, il 29 e 30 di luglio, la rassegna ospiterà una tappa nazionale inserita nel circuito del campionato italiano maschile. A calcare la sabbia di Piazza Andrea di Sernia, 12 coppie provenienti da tutta Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti.